Riguardo il caso del professore aggredito a Lucca, come avevo detto, ovviamente per i ragazzi si sta prevedendo una pena esemplare che va da una sospensione di 15 giorni fino alla bocciatura. Se non avete visto il video nel quale ne parlo ve lo linko qui da qualche parte. Queste pene sono giuste? Probabilmente sì. Sono utili? Sicuramente no. L'obiettivo della scuola dovrebbe essere quello di educare e creare cultura, non punire e reprimere. Il problema è un altro. Il problema è che i ragazzi oggi non sono neanche lontanamente quello che erano i loro coetanei 20 anni fa. Noi qui abbiamo ragazzi sottoposti ogni giorno a decine di migliaia di stimoli, molti dei quali visivi, e poi pretendiamo che questi ragazzi, quando entrano nella scuola, rallentino il loro cervello per adattarsi a dei ritmi di una scuola di 50 anni fa. È semplicemente ridicolo. La scuola dovrebbe dare cultura e preparazione mentale al mondo del lavoro. Non preparazione pratica, attenzione. Preparazione mentale al mondo del lavoro. Quello che vedo nella realtà è che la cultura non c'è. Noi viviamo in una società di giovani che hanno difficoltà anche a comprendere il semplice testo di un giornale, e non soltanto i giovani. Perché sono gli adulti, buongiornisti anche, che hanno difficoltà a comprendere i testi più elementari. Quindi non è soltanto la gioventù bruciata, ma anche gli adulti sono messi molto molto male. E vogliamo parlare della mentalità al mondo del lavoro? La mentalità al mondo del lavoro è una mentalità di una persona pronta ad apprendere ogni giorno qualcosa di nuovo. E mi sembra che né i giovani né gli adulti abbiano questo tipo di mentalità, nella maggior parte dei casi. E anche su questo vogliamo dare la responsabilità alle famiglie. Perché attenzione, sulla buona educazione io sono d'accordo che è una responsabilità delle famiglie. Ma sulla cultura e la preparazione mentale al mondo del lavoro, questa è totale responsabilità del sistema scolastico.